Buonasera cari amici telespettatori, vi voglio raccontare come ero tempo per stasemana di tutti i paesi presilani se io ne cilico ad arrivare a San Giovanni Impiore. Nei pressi di Spezzano Piccolo ci saranno delle grandinate fortissime e state mai accorti che abisca c'era la macchina. E salendo verso il fago del soldato cominceranno nevicate medie o forti che a frate mia ti aggrippano i motori. Invece andando verso la camigliatella già troverete delle persone che ripostano il culo che scivoleranno fino a balla e si fanno la panina di barrese e tutti i posti c'è. A San Giovanni Proprio un'anima era consegnata a 3 km. Si sono colpolate due piccedi con pocci e cignale sui conducenti disperati che avevano una quadra stasera che avevano ammettato gente e ora si sono arraggiate e cadavano un beleno. Per oggi è tutto, io vi saluto. Ci possiamo vedere al mercato generale di Camigliatello, Camerapona, Bancaretri, Sharpe, Guande e Slettini. Ciao a tutti e buonasera.